Inter-Juventus termina con un pareggio 4 a 4. L'Inter gioca in casa, la Juventus fuori casa, quindi non nello Juventus Stadium. Allora, per quanto riguarda l'Inter, due gol li fa Zelinski, due gol su rigore, entrambi nel primo tempo. Poi abbiamo Huntarian, gol nel primo tempo, e Dumfries nel secondo tempo regolamentare. Per quanto riguarda invece la Juve, la Juventus fa un gol Vlaovic nel primo tempo, sempre nel primo tempo Timo-Tiwea, e due gol li fa Kainan-Hildiz, entrambi nel secondo tempo regolamentare. Partita equilibrata, anche perché, andando a vedere le statistiche, siamo lì lì, il percentuale di possesso di vale è leggermente più alto per la Juve rispetto all'Inter, i passaggi sono leggermente di più per la Juve rispetto all'Inter, la precisione di passaggio è più alta quella della Juve rispetto all'Inter, ma, ripeto, a livello di cifre numeriche siamo lì lì, sono praticamente quasi equivalenti. Bene, vi ringrazio per l'ascolto e per la visione, 4 a 4, Inter Juve, oggi, 27 ottobre 2024. Buona sera.